Noi che ci siamo stati a passare frequentemente ne avremmo molte di cose per direttiva palestina. Alcune cose le abbiamo dette altre volte, ma stasera, vista il tema della serata, non c'è libertà senza pace, qui inserisce verissimo il discorso. Il potere di dire che non c'è pace, perché questo è un popolo che da oltre 70 anni subisce un'occupazione illegale da parte di Israele e soprattutto subisce una espansione continua delle colonie da parte dei coloni appunto che occupano spesso in modo illegale il loro territorio. Veglia dell'isolotto, le palacchie verdi di Vila di Gnaceri, la seconda Veglia senza Enzo Massimo, c'è Sergio Gomisi, qui ancora, Sergio, si parla di pace, si parla di palestina, si parla di testimonianza.